ciao è arrivato un altro pacco io non c'ero non ero a casa e oggi mi sono arrivate le cose che hanno ordinato i miei clienti eccolo qui il pacco adesso vediamo insieme perché ci tengo molto a farvi vedere i prodotti allora come prima cosa vi faccio vedere l'album un attimo vi faccio vedere le cose che hanno ordinato i miei clienti prima di tutto questo è l'album A6 che è fino al 17 maggio in vigore e vi faccio vedere un po' le cose che ci sono allora hanno preso un set di protezione che è questo qua questo da 19,95 che dava in umancio questa pochetta adesso vi faccio vedere un pochettino di quale si tratta allora la pochetta è questa e questo è il set completo giusto giusto aspettato perché non mi vorrei sbagliare insomma tutto qua non ho capito no mi sono sbagliato allora il set è questo la protezione 50 che è praticamente il latte il latte solare proprio la protezione da 50 più il dopo sole 3 in 1 il dopo sole idratante quindi a completo con la pochetta ed ecco qua tutto bellissimo tutto fantastico poi andando avanti mi hanno ordinato le creme viso una per il giorno e una per la notte e sono quelle là della linea arancione sono quelle dai 50 anni dai 50 ai 60 se non erro sono queste qua me ne hanno ordinate 4 ok poi mi hanno ordinato il set questo qua adesso vi faccio vedere ce la farò mai oggi il set questo qui rosa che praticamente è composto dall'acqua micellare questo è il set per per pelli sensibili eccolo qua adesso ve lo faccio vedere questo acqua micellare lenitiva più la crema la crema idratante lenitiva che è questa quindi questa linea qua più mi hanno ordinato il il latte detergente idratante eccolo qua se ne sta andando il sole oddio poi che mi hanno ordinato più il il balsamo dopo barba e il profumo l'eau de toilette di questo se non mi sbaglio è quello là al non mi ricordo uffi uffi allora non mi posso ricordare però è però il nature questo è la linea nature ed è questo qua legno di casac e ginepro buonissimi tra l'altro poi mi hanno ordinato il qualche snot d'amor eccolo qua poi 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 mi hanno ordinato l'olio secco di Monoi questo wow che spettacolo eccolo qua bellissimo si rende già il profumo oddio questo qua poi il burro di cacao a fragola non mancabile la matita nera quella la 3 in 1 e due smalti due smalti effetto gel eccoli oddio due smalti effetto gel che sono quelli là che stanno in promozione a 3,95 adesso vi dico i colori uno è il tup rose il 0,4 e uno è il framboise intense che è il numero 28 eccoli qua per me sono veramente stupendi belli 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 poi i ombretti l'ombretto in crema questo qua il turquoise turquoise quello qua non so se si vede e il rose sorbet il pink sorbet quello qua il matitone e con questo abbiamo finito l'ordine l'ordine che abbiamo fatto era giusto per per farvi vedere questi prodottini belli belli e interessanti che ci teniamo tanto a farveli vedere e quindi con questo abbiamo concluso spero tanto che vi sia piaciuto questo video e che le cose vi interessano quindi questo come ripeto sempre è un video per farvi vedere i prodotti per farvi conoscere semplicemente il marchio adesso vi mando un bacio e ciao 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 ciao